Buonasera e benvenuti a questa occasione davvero speciale, innanzitutto perché abbiamo, come vedete, cambiato posto. Siamo dentro la mostra, una scelta che abbiamo fatto con Luigia e con Enzo, proprio per immergere questa discussione, questa chiacchierata, insieme a Valerio Magrelli, che saluto e ringrazio per aver accettato di essere qui stasera con noi. All'interno, dicevo, di questa meravigliosa, straordinaria, non lo dovrei dire io, mi lascio andare rispetto a questa mostra davvero straordinaria, meravigliosa, perché con Enzo e con Luigia e con tutto lo staff del Maxi, su cui abbiamo lavorato per tre anni a realizzare questa mostra, è stata davvero una coprogettazione, una cosa diversa da una mostra, infatti anche l'abbiamo detto nel comunicato stampa, è stata un'avventura, è ancora, lo è ancora, un'avventura, un bellissimo percorso all'interno della grande immaginazione di Enzo e della sua capacità di sorprendere, di sorprenderci in continuazione e questa mostra credo che ne restituisca davvero la freschezza, l'attualità e la grandissima potenza poetica e creativa, perché, come vedete, è stata fatta una scelta radicale, quella di non dividere lo spazio, di lasciare lo spazio assolutamente aperto e dove opere di tutto, di tutti i periodi della storia di Enzo, dall'inizio, abbiamo qui un bellissimo disegno del 1980, ma con altri punteggiati di diversi anni, dialogano invece con l'ultima produzione e davvero sfido chiunque a capire quale sia datato e quale sia invece contemporaneo. Questo è un segno fortissimo rispetto ad un artista che riesce e che è riuscito a mantenersi di una freschezza assoluta, di un'attualità e tanto da essere anche preso in punto di riferimento dalle giovani generazioni di artisti. Ecco, questo dunque ci riempie di gioia e ci riempie di orgoglio perché Enzo credo che davvero sia uno dei grandi artisti contemporanei italiani, ancora più che attivo sulla scena, ma ha sempre fatto delle scelte molto radicali, molto precise e che non ha mai, diciamo, sdato la sua arte ad un consumo e ad una diffusione senza essere molto molto precisamente attento a dove e con chi realizzava i suoi progetti. Quindi lo ringrazio ancora per la sua grande generosità e per questo percorso meraviglioso fatto insieme e oggi appunto scendiamo all'interno di una delle caratteristiche di questa mostra che è detta anche nel titolo Il poeta e il mago, il suo rapporto con la poesia che è data dall'inizio della sua carriera e che però non lo ha mai abbandonato e devo dire che anche nel mio testo ho detto che la sua pittura è una poesia perché lui negli anni ha creato un vero e proprio linguaggio, una vera e propria sintassi, una grammatica, ma che si esprime non soltanto attraverso le parole ma soprattutto attraverso le immagini e di queste immagini è capace di restituirci davvero una sorprendente e non scontata continua sorpresa di quello che vediamo e di quello che ci arriva e ci parla. Dunque lascio la parola a Luigia Lonardelli che avrà il compito di gestire, arduo, di gestire la conversazione con Valerio e con Enzo e vi ringrazio a tutti per essere qui stasera con noi. Buonasera a tutte e a tutti, ci prendiamo un momento di riflessione dopo l'ubriacatura di questa apertura della mostra e anche io mi permetto di dire che siamo molto contenti, è difficile essere completamente soddisfatti di una scrittura espositiva e questi tre anni sono stati lunghi, sono serviti anche un po' a disimparare, almeno per me, quello che sapevamo di Enzo. Disimparare è un atto fastidioso che bisogna uscire da una zona che è comunque più comoda. Abbiamo scoperto un altro Enzo, speriamo di essere riusciti a metterlo in mostra che è un Enzo a briglia sciolta. Partendo da una delle ipotesi che un po' ci accompagnava appunto da questo rapporto con la parola scritta, ma vorrei dire anche con la carta, il carattere tipografico, abbiamo selezionato quello che vedete alle nostre spalle che è questo teatro della parola e invece nel processo di produzione del catalogo che accompagna la mostra che è edito da Five Continents abbiamo voluto riportare tutto questo rapporto, ma in maniera molto libera. Infatti anche nel catalogo Enzo appare e scompare, appare soprattutto attraverso i suoi amori, le sue passioni per la lettura e in fondo al catalogo ci sono, in fondo anche dentro, delle letture, vogliamo dire, extravaganti. Per cui abbiamo una intervista di Mario Finazzi ad Enzo dove Enzo decide di rispondere con dei disegni e abbiamo accettato questo nonsense, questa ironia pubblicandolo. Abbiamo un testo di Valerio Magrelli che si chiama Enzo Cucchi alla scuola, anzi non Enzo, chissà Enzo dov'è, di cui poi magari parlerò come spot perché è stato per noi anche una traccia il testo di Valerio Magrelli. In questo carattere che identifica come aurorale dell'opera di Enzo Cucchi c'è un testo del responsabile della nostra biblioteca che legge la biblioteca personale di Enzo Cucchi come biblioteca d'autore e una selezione della biblioteca la trovate all'ingresso della mostra e potete consultarla entrando nel vivo delle letture di Enzo. E c'è un'antologia di testi amati da Enzo e quindi alla fine il catalogo stesso è un divago, un po' come l'opera che avevamo davanti e che dovevamo in qualche modo acchiappare con Bartolomeo lasciandola però libera di uscire lateralmente, per cui non so se avete già avuto modo di vedere la mostra se la vedrete insomma nei prossimi mesi, ogni volta che vi girate c'è un'opera di Enzo che scappa lo sguardo da qualche parte penso che sia esattamente quello che ci succedeva quando cercavamo di acchiapparti. Ora siccome prima stavamo chiacchierando vorrei continuare a chiacchierare con Enzo e Valerio prima stavate parlando di poeti marchigiani, eravamo andati proprio nel dettaglio però vorrei tornare un po' indietro a come nasce non so se la consideri la tua prima opera, il libro del 73, poi il rapporto con la nuova foglia, con questa situazione marchigiana molto interessante a livello editoriale e anche a livello tipografico. Possiamo partire da lì? Ci proviamo? Facciamo intanto grazie, grazie davvero, sono contento insomma di come abbiamo lavorato, insomma senza che lo ripeto allora intanto qui io non sono un mago, il poeta c'è, quindi massacrate il poeta che va bene cioè per quanto riguarda, tu vuoi parlare della poesia marchigiana ma insomma non sono contento che con Valerio abbiamo affrontato un paio di amici ma è chiaro, tutto quanto sta nell'Italia centrale, capito? cioè lo stomaco è tutto là, quindi è tutto, è chiaro che tutta la poesia alberga lì, poi dopo va a sapere adesso non so dove è nato Valerio, però dove sei nato Valerio? A Roma, va bene, tutte le strade vanno a Roma chissà da dove è partito però, ma poi fate qualche domanda a Valerio perché è pieno di erudizione, è bravissimo quindi io la mia lettera d'amore l'ho fatta e sono questa, insomma, poi faccio un'altra cosa ma chiedete qualcosa a Valerio forse io a Valerio vorrei chiedere una cosa a cui non abbiamo avuto una risposta cioè questo che abbiamo qui dietro, questo, dico volutamente questo a un certo punto l'abbiamo selezionato per assonanza formale partivamo dalla semplificazione del libro d'artista però non sono propriamente tutti i libri quelli che abbiamo qui dietro è diciamo una tipografia portata all'estremo delle sue potenzialità e alla fine non abbiamo saputo rispondere effettivamente a quello che abbiamo qua dietro e non sappiamo che è qualcosa che rimanda alla forma libro alla forma di lasciare le immagini stampate in una qualche modalità ma non sappiamo bene cos'è allora cominciamo io ho passato faccio anche cose più piacevoli però ho passato gli ultimi due anni a scrivere un libro sull'odio l'odio tra, o anzi, l'odio di Céline contro Proust però ho preso a un certo punto la tangente e mi sono messo a studiare le più diverse forme d'odio c'è una bibliografia infinita ma c'è anche una filmografia infinita i famosi celebrity dead match che mi facevano vedere i miei figli cioè dei pupazzetti di uomini famosi che si uccidono tra di loro sbranandosi possono essere un attore contro un altro uno sceneggiatore contro il regista e via di seguito Mussolini contro Benigni sono tutti pupazzi perché parlo di odio? perché in un qualche modo strano io sono rimasto molto colpito studiando e preparando il mio testo per Enzo Cucchi quando lui ha espresso la sua insofferenza per non dire il suo odio verso i surrealisti ecco è esattamente quello che ho fatto io in verità il mio primo lavoro fu sul dadaismo un lavoro universitario che mi capitò per caso e che però mi fu preziosissimo ebbene tutto ciò che era dada lo vedevo rovesciato nel surrealismo il surrealismo è una specie di battaglione è una come è stato detto da qualcuno è l'albero contro il rizoma è la verticalità contro l'orizzontalità è l'autorità contro la democrazia ecco dada era ironico era bizzarro era nichilista e invece Breton che pure intendiamoci è stato uno straordinario poeta oltre che narratore cacciava cacciava tutti più erano bravi e più li cacciava e allora direi ecco qui un surrealista inizierebbe a dire no, quella no questo no quello no questo no e invece il dada si allarga e abbraccia tutti questa è la lezione che io ho tratto da quel lavoro poi un grande il dada è un po' a cavallo tra tra arte e letteratura è un grande critico George Steiner ha detto il dada è il grande fenomeno con Duchamp che inaugura il novecento e poi viene replicato all'infinito ecco io in questo mio odio condiviso mi pare di poter dire verso il surrealismo verso alcuni aspetti evidenti del surrealismo trovo anche in poesia l'equivalente della mia più profonda convinzione si può fare tutto e lo scoprite in questa piccolissima antologia ma non lo dico per dire veramente sofisticatissima antologia di poesia di sei pagine che trovate nel catalogo comisso poco noto e semmai oltre come come pittore come narratore come poeta come narratore vabbè caproni delfini penna tano festa poeta e Lucio Piccolo il famoso cugino di Tomasi di Lampedusa l'immenso rebora ecco già in una scelta del genere e passo la parola si può capire che Tana libera tutti ognuno è libero di fare quello che vuole ecco quando mi chiedono che cos'è la poesia la poesia è il il giovanetto di Sandro Penna che fuma un sigaretto nel cinema e è la belva la bestia misteriosa di Caproni e è Dino Garrone di questo parlavamo prima un poeta marchigiano che confesso io non avevo mai sentito nominare quindi ho ho da portarmi a casa qualcosa anche anche come versi dico raccontaci di come l'hai scoperto l'ho scoperto cioè semplicemente un giorno leggevo insomma è stata Brunella che mi ha detto ma talmente avevo letto una cosa giù dal ponte che ho detto è morto giovane si è suicidato Brunella mi ha detto no Enzo come al solito dici delle cazzate mi ha detto guarda che è semplicemente è morto come si chiama ha scritto giù dal ponte ma non è che si è buttato dal ponte è morto in un altro modo ma tanto mi aveva fatto impressione questa piccola immagine non come lui che guarda giù dal ponte poi c'era un'altra poesia su mi ricordo su Coppi o Bartoli adesso non mi ricordo no Giro d'Italia bellissima ma poi piccoli scritti piccole finestre sono delle vampate sono piccole vampate sono immagini semplicemente immagini ma quello che ti dicevo mi faceva anche impressione che io poi non capisco perché questa è una cosa già molto più sofisticata per me ma mi faceva impressione comunque l'idea che Montanelli l'aveva scelto come il nostro il gobetti italiano ma io non sono uno storico non sono così capace di riuscire a vedere la qualità la densità di una cosa di un argomento del genere però anche questo fa impressione perché diventa comunque per me che sono ignorante un'immagine insomma Gobetti che non conosco niente comunque è una figura etica morale magari speciale poi Montanelli che è una figura piena di intelligenza di ironia che dice queste cose ma tu guarda che poi lo fa insomma una creatura che decide in questo modo questo tipo di approccio mi piace la differenza no? immagino quanto sia complicato oggi ma questo magari tu lo sai meglio di me come avvengono le altre cose insomma questo è Dino Garone poi tante altre piccole cose che sono contento che lo guarda lo leggi penso che anzi è un argomento che quando ci vediamo mi dire e poi che altro poi poi niente Valerio prima citava una tua dichiarazione che Valerio ha citato nel suo testo rispetto al fatto che la pittura non può essere un metodo e quindi non può essere surrealista e quindi la pittura è per se stessa basta a se stessa è autogenerante non può essere un metodo perché la pittura è non si può applicare un'idea a un metodo cioè la pittura è un'altra cosa è una pittura e quando fai le cose quando hai la testa vuota non c'è più niente in testa se no non riesci a fare niente no? e qui torniamo a quella riflessione che avevi fatto sullo zero assoluto Valerio nel tuo testo fai questa riflessione sullo zero assoluto appunto sullo zero assoluto partendo dai 4 minuti e 33 secondi di Cage quindi l'idea che si si nasca da uno zero assoluto e da lì si riparte che in qualche modo anche molto vicino a un discorso di lirismo di poesia io adesso tiro il discorso dalla parte della letteratura mentre qui regna la pittura però c'è un motivo sono rimasto stupito dalla quantità e dalla qualità di interventi a firma di scrittori come Volponi Parise Testori e venendo più giù Tiziano Scarpa oppure una figura a cui ero molto legato Alberto Boatto ecco quello che loro hanno saputo scrivere però paradossalmente ho voluto iniziare da Parise dal modo in cui Parise con quella sprezzatura tutta sua descrive un quadro di Enzo e a un certo punto dice è tutto punto ma è bello punto perché non lo so non sono Roberto Longhi affari vostri e lui si ferma e giustamente dice io in quanto scrittore posso dire che è questo non devo fare di più in realtà gli altri fanno molto di più va detto e molto bene Scarpa Testori magari poi se capiterà leggo qualche qualche passo però indubbiamente c'è c'è un problema che chi scrive affronta e dunque affronta disarmato ecco tant'è vero che poi io questo testo l'ho fatto leggere a un mio amico critico letterario non mi fido mai di me stesso e io sono rimasto colpito da un fatto cronologico semplicemente e che ho collegato a due miei testi c'è una progressiva erosione dei linguaggi artistici tutti i linguaggi artistici a cominciare dalla pittura ma anche la musica che ho studiato di più che porta a una specie di entropia di silenzio di azzeramento faccio l'esempio di quel famoso pezzo di John Cage 4,33 devo dire una cosa la leggo perché se non ho sbaglio 4,33 è la durata del pezzo di pianoforte e si vede andate su youtube è molto spiritoso anche il pianista si siede mette il cronometro apre la tastiera del pianoforte e incrocia le braccia e fa passare 4 minuti e 33 secondi dopodiché che blocca il cronometro si alza e riceve un'ondata di applausi questo nasce dalle prime dissonanze che si trovano in Mozart e poi aumentano poi diventano cromatismi poi diventa la dodecafonia poi diventa la tonale il punto finale è questo zero assoluto che mi ha fatto pensare allo zero assoluto di Rocchenco e ancora di aspettate che me lo ero scritto perché con i nomi parentesi oggi mi è arrivata una mail in cui vengo convocato hai detto giustamente che ho scritto sui giornali dalla casaggit per fare il test dell'alzheimer dopo domani quindi vediamo che succede comunque l'autore era Rocchenco e niente non c'è Malevich mi pare ma non credo fatto sta questi autori questi pittori disegnano lo zero assoluto quindi al così quello che io chiamo la phon il senza suono di Cage corrisponde poi la crom e Manzoni Yves Klein e tanti altri ma ecco la cosa più importante che non vi ho detto 4,33 perché questa durata? perché 4,33 nella scala delle temperature inglese non mi ricordo come si chiama una è Kelvin l'altra non so che lo troverete scritto qui ah ecco nella scala delle temperature ecco equivale a meno 273 gradi Celsius che sono la temperatura in cui ghiaccia il Mercurio e si considera per convenzione lo zero assoluto dunque Cage quindi il silenzio indica lo zero assoluto che facevano pochi anni fa pochi anni prima in maniera identica che perseguivano in maniera identica Rocchenko e quest'altro pittorio che mi sta facendo impazzire Malevich non era proprio Malevich appunto bianco su bianco ebbene un anno dopo uno di questi tre elementi fenomeni di cui vi ho parlato un anno dopo nasce Enzo Cucchi allora io mi sono messo in mente che la sua nascita rinascita in qualche modo stia a significare la necessità di reinventare un linguaggio che non poteva più essere quello delle avanguardie evidentemente arrivato alla volontaria intelligentissima estinzione ma non poteva neanche quello di essere quello difeso dato gli atti e da Lukács di cui cito dei passi imbarazzanti e quindi questo è il punto io trovo che Enzo torna a bussare con la sua pittura attenzione io ho parlato di Lascaux anche perché è una scoperta studiata a fondo da Bataille io mi occupo di cose francesi ma con grandissimo acume un vero genio devo dire Testori aveva già parlato della camunia delle grotte mettendo in relazione quel tipo di graffiti con la tua ricerca quindi se sbaglio è colpa di Testori sicuramente Manievich non va sai Manievich è sacrale e Manievich è l'icona è proprio lui classica è l'immagine proprio se c'è un'immagine proprio che poi lui poi comincia a fare la rifarà rifare la figura di nuovo ha sempre fatto la figura l'immagine è uscito l'altro anno un libro che ho preso proprio su di Manievich ma è talmente evidente è chiaro se per un pittore è una cosa più facile è come capire quella roba la capisco quanto è complicato non nei meccanismi ma insomma l'istinto di un artiste deve essere insomma non deve perdere tempo su queste cose in un secondo capisci che quella cosa è così non è quello che si dice poi sei penso la qualità letterale di Longhi magari poi il poverino magari non capiva alcune cose penso quanto era bravo era un grande scrittore forse però magari perché no ovviamente qualcosa va bene lascia stare poi chiaro ha fatto il Piero mannaggia il Piero si è fatto tantissimo però anche perché già c'era tutto però era tutto lì comunque non si poteva era inevitabile poi che altro devo dire sai che non mi ricordo Valerio tu perché hai detto altre cose non so su che cosa mi hai detto questa cosa che dice che comincia a dire testori sui graffini ma Giovanni quelle sono vicende molto strane allora io vedo che sia una creatura eccezionale lui anche come autore penso che sia veramente è poeta è una qualità però insomma non mi vale raccontarvi il nostro incontro era conto storico anche molto simpatico perché era una persona anche molto timida terrorizzata cioè lui aveva scritto una cosa bellissima per me ma non si fidava però perché aveva scritto cucchi non mi incucchi ma perché doveva attaccare in quel caso la Biennale di Venezia degli ultimi anni un amico comune gli dice guarda che Enzo non mi frega niente ha trovato questa cosa come una cosa bellissima perché era una cosa letterale quindi mi piace quel suono lì che mi frega di quello che è qual è il problema poi lui era un super fan anche insomma qualcuno mi aveva poi detto che per esempio acquisiva faceva acquisire dei miei disegni a un suo amico e poi perché lui disegnava faceva l'artista non era tanto bravo era un po' così insomma ma poi quindi il primo incontro il primo incontro che è stato molto quando ci siamo incontrati lui è arrivato con questo autista molto timido spaventato quasi no? poi ho detto senta io sono un grande ammiratore suo vero come no? ma tutto quello che ha detto che scrive sull'arte così non me ne frega niente non mi interessa perché lui adopera la materia dell'arte no? la mastica tutta per fare il suo lavoro meraviglioso ma un'altra cosa cioè quelle cose che lui amava quel tipo di pittura perché non c'è niente di male ma non stava insomma certamente a me non funzionava poi detto questo insomma non è che ci vogliamo bene siamo veramente non c'è un'ammirazione reciproca fortissima cosa che poi abbiamo fatto un paio di piccole cose anzi lui ha scritto alcune cose anche esagerate penso nei miei riguardi insomma troppo generoso troppo parlare che è più bravo di me fidatevi su Cucchi non mincucchi devo dire che invece ti ha proprio preso perché tu hai sempre giocato col tuo nome ma quello è un vizio letterale ma lui è un grande io non si riuscirei mai a fare hai giocato sempre anche qui ci sono vari giochi con la C che si ripete questa lunga quindi invece ti ha affascinato completamente posso fare qualsiasi cosa posso disegnare solo con la C lui era polemico invece ti ha preso un segno aperto fai qualsiasi cosa insomma quello un pittore può farlo se è bravo cioè un letterato no insomma deve fare un'altra cosa guarda che tiro fuori un dono che mi è stato fatto quando ci siamo incontrati e ho sbagliato il libro ah ah grande mi sono sempre fatta a posa ma che cos'è senti ma lo troviamo lo recuperiamo Bartolomeo hai capito quale qual è quello quello del nostro sì ah devo fare no perché volevo far vedere un segreto di quel libro bellissimo devo salire troppo su quei gradini c'è il conservatore dietro sì no quello sì 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 scusa io sono inamovibile devo proprio parlare di violare il marco ah ecco te lo passo subito allora ecco vedete dunque io lentamente ho scoperto no mi sono un po' occupato appunto via via dadaisti via futuristi iliaz la storia del libro questo scusami Valerio ma lo devo dire è un libro che abbiamo pubblicato è questo quello che stavo facendo pubblicità certo fino poi alla scoperta dei pop up e tutto questo eppure mi è piaciuto moltissimo questo libro che come ho scritto si illimita cioè sfonda i margini se ne va per conto suo non gli basta la pagina e allora si allarga con queste linguette ripeto non è l'esplosione del pop up che rinvia addirittura agli origami e cose del genere però l'ho trovato proprio l'uovo di Colombo ecco gli avrei cambiato il titolo è proprio l'uovo di Colombo perché guardate che meraviglia questo protendersi un po' appunto illimitato e anche tentacolare questo mi sembra mi sembra un segno molto importante volevo arrivare a un punto che adesso non ricordo ecco questa specie di prensilità che si vede molto bene in questa mostra proprio l'occupare lo spazio nei modi più diversi io adesso tornando per esempio non mi ero accorto di quella bellissima aquila con gli artigli protesi in alto ecco io trovo che questo libro ci dice ci dice molto anche se è un libro senza colore e ovviamente il colore gioca una parte enorme scusami ma io ti avevo interrotto tu volevi aggiungere ti avrei chiesto proprio di quello di violare il margine ecco no questo mi viene in mente ovviamente lo riporto al mio lavoro io studio letteratura francese uno dei libri che ho più amato è Proust ragione per cui non ho mai fatto un corso su Proust e la cosa leggendare ci sono state mille mostre su Proust fotografie anche qui se andate su Youtube tre anni fa hanno trovato un filmato in cui si vede lui che scende le scale è l'unico filmato di Proust è fantastica sta figurina in 15 secondi che se ne va ebbene Proust sulla copia che aveva in questa famosa stanza da letto foderata di sughero per non sentire i rumori attaccava strisce strisce di carta scritte quindi questo fa immediatamente pensare a Proust solo che qui c'è il disegno non c'è la scrittura lui le chiamava le paperolle non si può tradurre le cartuccetti cartuccelli cartuccine ecco io trovavo lo stesso lo stesso atteggiamento quasi di di proprio di bramosia lo spazio non basta e e niente prosegui così e noi ti veniamo dietro grazie vorrei dire Enzo che abbiamo rispetto a questa cosa dei margini questa è una cosa che sembra più pratica però in realtà è di natura estetica ci siamo trovati a dover capire come incorniciare Enzo perché non è chiaro dove finiscano le opere di Enzo e in sul sulla base che vedete al centro della galleria ci sono gli strimpelli sabatali che sono nella collezione del museo noi li avevamo acquisiti ma non erano ancora stati incorniciati quindi per la mostra ci siamo posti il tema e gli strimpelli sabatali sono delle scartuccelle forse finalmente ho capito cosa sono e effettivamente non capivamo dove finissero poi Enzo ci ha risposto in maniera molto cucchiana beh fate una cornice e la cornice si adatterà effettivamente si è adattata però se si guardano viene di nuovo in mente la pagina di un quaderno che però è stata strappata ricomposta e alla fine non si sa mai dove finisce la tua opera è vero ci siamo trovati molto spesso con Bartolomeo a ragionare su queste protusioni che escono dalle opere che si vanno a prendere lo spazio espositivo le opere intanto le opere le opere l'opera in generale è aperta sempre una cosa chiusa non c'è una cosa decorativa è un'altra storia e poi che vuoi che faccio insomma mi porto sempre dietro qualcosa in cui mi serve capito che diventa necessario e che in un momento insomma quando tu ti pulisci la testa e quindi fai delle cose e quelle cose devono andare poi a riposare capito devono riposare in qualche modo quindi rimangono lì in studio poi man mano che si calmano e che trovano un momento che hanno riposato possono cominciare a fare qualcosa e non entri ma a me mi aiutano mi aiutano un po' come con i fantasmi no? te li porti non stanno mai davanti come li vedi sei sempre dietro a qualcosa o in un manico dove prendi in mano qualcosa no? è sempre sta là sotto il fantasma poi i lavori spesso queste cose aperte come tu lo dici sono così sono insomma sono sono una persona super noiosa ti puoi immaginare che gli ho fatto un lavoro e chiuso bello cioè no? un pochettino un po' morandi non mi fate dire che facciamo succedere un casino poi non abbiamo una roba da salotto insomma pronto per tutte le stagioni no? la cosa carina Lunghi lo amava molto però sì mi sembra di sì lo amava lo amava vero eh ma vedi qualche volta si sbaglia pure lui cioè che c'è di strano cioè penso che insomma ma a proposito di di qualcuno che scrive no? che loro ritengono scrittore è una figura molto strana moralmente molto bella e mi piace molto che tu ecco di cosa pensi è un bravissimo pittore penso ma ma come figura morale così come scrittura come mi piace ancora di più sto parlando degli cini cioè è un rante erotico eretico con quelle piccole a me piace molto è una figura particolare a morandi dice ma in chi che intostava questa luce fammi vedere ma io vedo nebbia non è male eh è solo perché gli americani dicono che il più grande pittore del novecento tutto il mondo dice è il più grande pittore del novecento ma io non ce l'ho non ce l'ho mica con morandi è intenzione insomma è una bella persona insomma però ma ci sono dei pittori bravissimi in Italia insomma anche di giovani ho visto qui un paio di amici prima sono dei giovani che sono alcuni molto più bravi di morandi io penso oggi anche insomma no però insomma fate parlare di Valerio che sanno Valerio siccome è rimasto che l'avete invitato a fare allora siccome Enzo dice che ha già fatto giustamente ci ha dato abbastanza da vedere in effetti con questa mostra è stato molto generoso ti volevo chiedere visto che era rimasto così sospeso un po' il discorso di Lascaux se ci puoi parlare dell'interpretazione dell'opera che avevi dato come cominciamento che poi come cominciamento l'aurorità dell'opera di Cucchi perché nell'interpretare questo azzeramento c'è anche l'idea del poter ricominciare in realtà e quindi è quell'aurora tramonto che vedete alla fine della galleria che non sappiamo ancora se è un'aurora o un tramonto ecco ai vari esempi di fine in pittura in musica vorrei aggiungere questo che riguarda Breton ma Breton dadaista il quale adorava un personaggio che non aveva mai scritto ma lui chiamava poeta Jacques Vachet leggendario Jacques Vachet trattava malissimo Breton e lo prendeva in giro dicendogli aggiungeva un H nella parola francese diceva tu sei un po' et con l'H con tutto come un po' mimando la parola profet era quello che è successo in Italia con la nascita di Danunzio il Vate quindi Jacques Vachet non scrive prende in giro i poeta e si suicida naturalmente a 18 anni e Breton continua a vivere nel suo culto dicendo la sua fortuna sta nel fatto di non aver prodotto nulla allontanò sempre a calci l'opera d'arte questa palla al piede che trattiene l'anima dopo la morte ecco io porto questo referto appunto per dire come il novecento è arrivato al punto terminale con un zero indifferenziato proprio in tutte le arti e come c'è stata una generazione che ha dovuto ricominciare perché non si può fare lo zero all'infinito non puoi replicare lo zero anche se molti ci hanno provato ma non voglio fare polemiche e invece quello che voglio dire è che lo sto cercando c'è un critico d'arte italiano Roberto Galaverni che lo ha detto molto bene lui dice in poche parole c'è stata una generazione che ha dovuto fare i conti con l'ennesima morte dell'arte ma questa volta quasi vera come muoversi di fronte a chi ci ha sbarrato la strada di fronte a chi ha detto che l'opera è una palla al piede appunto Galaverni suggerisce alcune scappatoie vie d'uscita quasi proprio cunicoli per uscire all'aperto e io ho visto sempre l'opera di Cucchi in questa prospettiva cioè di fronte al bivio appunto realismo socialista da una parte Cage dall'altra inventarsi qualcosa tornare a dipingere ecco perché io l'ho sempre giudicata molto vicina a qualcosa di aurorale nascita rinascita l'uomo primitivo nelle nelle valli Camunie o di Lascaux oppure il bambino altro elemento ovviamente insomma io poi non sto a dire la letteratura sulla transaguardia enorme quella su Enzo ancora di più quindi è ovvio che spesso mi imbatto in ovvietà allora questo per esempio era era una descrizione che mi pare funzioni molto bene è uno studioso Delio Salottolo che parla di bataglia sulle grotte di Lascaux e sulla nozione di cominciamento Lascaux e le sue pitture rappresentano il momento e il luogo in cui cominciarono gli uomini dice bataglia tutto il resto è attraversato costantemente da immagini come l'alba il lampo l'uscita dalla notte insomma il discorso è costruito sulla base di una metaforizzazione intorno all'immagine della luce il problema dell'origine come momento dell'avvento della luce è evidente che uno va avanti è il caso di dire a tentoni nel buio dell'opera è valida è giusta è plausibile questa lettura non lo so certo ecco questo lo posso dire c'è molto di personale perché io mi sono trovato di fronte a qualcosa del genere quando ho cominciato a scrivere con il gruppo 63 che da una parte amavo dall'altra tirava contro insomma è una storia tipicamente novecentesca quella che riguarda l'uscita dal novecento io l'ho vista così o no? va bene devo rispondere se siamo usciti dal novecento? siamo usciti dal novecento? la rifaccio la domanda ci siamo usciti dal novecento? uscire è difficile è molto facile entrare ma uscire è difficile tu hai detto così tra l'altro della mostra hai detto è molto facile entrare nella mostra è difficile uscire da una mostra di questa mostra? bellissimo ho detto che è molto facile è molto difficile uscire dalla mostra è facile entrare si ma è difficile uscire insomma, è difficile riuscire questa mostra tra l'altro a proposito di è difficile uscire è stata concepita proprio ragionando su molteplici direzioni di entrata forse non di uscita a questo punto non lo so, ci siamo rimasti dentro anche noi, tanto che siamo qui perché abbiamo voluto essere qui è aperta, è una cosa che deve restare così aperta, deve dare insomma, deve organizzare un po' di speranza come si dice? Qualcosa che è possibile fare di fiducia di fiducia, ogni giovane può pensare oggi che può fare una mostra può fare una mostra tu devi fare una mostra però perché lui lo rassereni un po', lo calmi altrimenti che fai? È chiaro che nel momento che fai il vetrinismo anche quello se non hai dietro qualcuno che ti aiuta, ti finanzia e poi non stai facendo niente stai facendo vetrinismo ecco come diceva senti una cosa bella proprio lo dico a Fredo Paris tanti tanti anni fa e lui era andato a vedere una mostra se volete vi dico anche di che ve lo dico però perché no ma non è rivolto però anche a lui di qualcosa di più terribile ve lo dico dopo ancora più simpatico la mostra era di Mario Messe lui era andato a vedere una mostra alla costana di Basilea mi sembra da queste parti la mostra l'ha fatta con Ara Zema a proposito del nostro amico artista mancato capito? lui lì è è giusciampo dietro l'angolo capito? Ara Zema dopo c'è tutta la replica non le due sciampate però prima è vero quindi gli abbiamo detto ma senti Alfredo com'è la mostra di Mario? vetrinismo vetrinismo ti ricordi come? io lo sovo fighissimo è grandioso sono con una parola ha letto così bene perché è vero la mostra di Mario Messe gliel'ha fatta fare sul tetto della costale c'è capito? sul tetto c'è un terrazzo enorme alla costale di Basilea o di Zurigo forse quindi tutti gli glò di Mario l'ha messo illuminati sul tetto ma che si fa così? ma che non è mica è capito? la mostra è di Ara Zema capisci? è lui che ha fatto ma vedi però arriva uno come fa a Parise in una sola parola vetrinismo l'ha fulminato c'è grandioso c'è quindi chiaro che il più grosso critico non c'è paragone no? più grosso critico di chiunque ma Moravia scriveva d'arte come nessuno quelli che noi siamo stati fortunati siamo stati molto fortunati perché avevamo tanti amici che non erano bravi come Moravia come Parise quindi se li giocavamo capito? saranno tutti incazzati adesso che si arrabbieranno tutti poi comunque vabbè sentite invece c'era un bravo artista che si chiama Salvo e un giorno gli chiedevo a proposito per chiudere la cosa di Mario perché poi è una persona simpaticissima molto per bene io gli ho detto senti ma Salvo ma come va? ma come va? Torino come va Torino? come stai? così non stava tanto bene gli ultimi anni lui mi ha detto ma come va che va ha fatto? ma come va che i torinesi i torinesi pensano che Mario Merza sia un grande artista io lo trovo fighissimo è vero ed erano molto amici cioè capito? però va bene così ecco però qualche volta bisogna bisogna ascoltare di più no? sì i poeti e qualche volta così anche qualche volta qualche amico artista che magari non è bravo come un poeta a dire delle cose però oppure non sicuramente non è bravo come uno scrittore però qualche volta però vabbè è simpatico ecco come chiosa in mostra c'è un'opera che si chiama una duschampata alla Picasso per tornare alle duschampate per tornare alle duschampate ma veramente pensavo chiedessi al maestro no non si esce da noi io penso di sì è buono dobbiamo fare delle dobbiamo fare delle rifare mostre e anche delle tane proprio hai capito dove anzi non se lo aspetta nessuno magari cioè che non si aspetta che tipo di mostra la fai la porti in una tana però bisogna rifare questo nei luoghi proprio dove si immaginano che c'è una 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 vetrinata oppure insomma oppure andare lì a truccare con tutti i rispetto alcune cose molto belle ma non si può andare dentro i musei in un certo modo non siete d'accordo? come si fa ad entrare in un museo a fare a fare no? cioè cercare quel palcoscenico così speciale no? come dire che io e te andiamo a fare una stupidaggine al museo borghese non ci passa nemmeno per l'anticamera del cervello e invece guarda caldo qualcuno qualcuno lo fa adesso lo praticano invece mi sono dato una risposta come come istigava il noto presentatore mi faccio la domanda e mi sono dato una risposta perché mi è venuta in mente c'è un mio amico di cui non farò nome neanche sotto tortura famoso per fare citazioni che però non sono vere cioè lui mi fece delle citazioni di sabba dico ma che meraviglia non le ho mai trovate quindi sono sue ma sono bellissime e senti questa questa è una citazione di Blanchot io non l'ho mai vista ma è sua e lui dice l'unico modo di uscire da un labirinto è entrare in un altro molto bella lui ha detto che di Blanchot non è vera è sua ma non vuole dirla perché se lui dicesse è mia noi saremmo felici comunque e questo vale anche per il novecento si potrebbe dire io penso di dover chiudere qui questo dialogo perché sta diventando pericoloso se no ci fai sforzare troppo ha detto ha detto una cosa bellissima chiudiamo con questa storia di Valerio continuiamo a vostro rischio e pericolo Valerio questa cosa mi aveva fatto venire in mente come hai chiuso il tuo testo con una citazione di un aneddoto richiamato da Stefano Chiodi sul fisico che tiene il ferro di cavallo e quando gli chiedono ma perché tieni un ferro di cavallo e lui dice ma mi hanno detto che funziona anche se non ci credi e quindi Chiodi fa una riflessione sulla tua pittura dicendo ma la pittura di Enzo funziona anche se non ci credi e poi questo discorso è molto legato all'invenzione della citazione perché quella citazione è in qualche modo plausibile e in effetti per me io ci credo però funziona anche se non ci credi grazie grazie a tutti grazie Valerio grazie a Luisa grazie grazie a Bartolomeo grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti